L'idea della realizzazione di questo video mi è venuta guardando un video pubblicato recentemente da Francesco Narmenni, che saluto tanto, sul suo canale e che vi lascio qui da qualche parte riguardo a come investire nei terreni agricoli. Francesco ha descritto in maniera dettagliata come poter portare al reddito i terreni agricoli parlando di tre diversi modi per farlo e io mi voglio unire e accodare a quel video con un ulteriore metodo, quello che adoro di più e che fa parte anche della mia sfera di interesse. Di cosa parliamo oggi? Di un ulteriore metodo per acquistare terreni in maniera indiretta mettendoli a rendita ma avendo la possibilità di diversificare moltissimo e per cui di ridurre drasticamente i rischi e di avere anche la possibilità di venderli in pochi secondi con un click. Esatto, parlo proprio dei REIT agricoli o Real Estate Investment Trust agricoli che sono aziende che investono principalmente in terreni agricoli o attività collegate all'agricoltura. Queste aziende operano sotto la struttura dei REIT che richiede che almeno il 75% degli asset di ogni azienda sia investito in attività immobiliari e che almeno il 90% degli utili sia distribuito agli azionisti sotto forma di dividendi. Prima di avere degli esempi di aziende che fanno al caso nostro cerchiamo di capire in maniera molto funzionale come appunto vanno a funzionare i modelli di business dei REIT soprattutto di quelli agricoli e per cui ecco una descrizione dettagliata delle attività e delle caratteristiche dei REIT agricoli, dei loro limiti, perché ce ne sono, e dei loro vantaggi. Il processo di acquisto dei terreni da parte dei REIT agricoli infatti, quelli quotati negli Stati Uniti perché sono quelli più grossi e quelli per cui prendiamo in considerazione, è un processo molto complesso che coinvolge diverse fasi e attività strategiche e per cui di seguito vado a fornire una spiegazione che sia la più dettagliata possibile ma che non vada troppo nei dettagli perché non siamo tecnici e vogliamo capire più o meno quello che è. Prima di tutto viene fatta un'analisi di mercato e viene fatta l'identificazione delle possibili opportunità di acquisto, infatti i REIT agricoli iniziano conducendo un'analisi di mercato per identificare regioni geografiche e tipi di coltivazioni che offrono opportunità di crescita e rendimenti stabili. Quest'analisi può coinvolgere dati demografici, condizioni del suolo, andamenti climatici o ad esempio tendenze del mercato. A questo punto, come è ovvio che sia, in qualsiasi investimento viene fatta la cosiddetta due diligence, per cui un'opportuna e dettagliata analisi. Questo processo può includere ispezioni sul campo per valutare la qualità del suolo, valutazioni ambientali per identificare potenziali problemi e analisi finanziarie per valutare la redditività prevista. Capite benissimo che se io debba andare a comprare un terreno e portarsi dietro un esperto per tutte queste valutazioni sono d'obbligo. In questo caso il know-how viene direttamente dal REIT e dalle sue funzionalità. Sulla base dei risultati di questa due diligence i REIT determinano il valore del terreno agricolo e presentano delle offerte ai proprietari. La trattativa può coinvolgere i negoziati sui prezzi e sulle condizioni di acquisto come ad esempio in una qualsiasi compravendita immobiliare, solo che viene fatta da persone altamente specializzate in questo settore. Se poi si raggiunge l'accordo per il prezzo i REIT procedono con la strutturazione dell'acquisto e possono utilizzare diversi metodi. Possono ad esempio utilizzare finanziamenti interni, emettere nuove azioni o ottenere finanziamenti esterni per coprire i costi di acquisizione come ad esempio la richiesta di mutui bancari ben definiti o anche la emissione di alcune obbligazioni. Ovviamente prima della chiusura di ogni affare i REIT devono ottenere le necessarie approvazioni regolatorie. Questo può includere ad esempio approvazioni di organi governativi locali ma anche nazionali e questo è necessario ed avviene non solo per noi poveri mortali ma anche per le aziende super strutturate come può essere un REIT quotato sul mercato americano. Solo a questo punto dopo aver ottenuto tutte le approvazioni e completato tutta la documentazione regalo l'acquisto viene chiuso ufficialmente. I REIT diventano i nuovi proprietari di quel terreno agricolo e decidono come usarlo e a questo punto dopo la parte di acquisizione i terreni vengono integrati nel portafoglio dei REIT. La gestione operativa può coinvolgere la gestione diretta delle coltivazioni o l'affitto ad operatori agricoli terzi ma con l'aggiunta del know-how interno i REIT possono implementare strategie per massimizzare la produttività e l'efficienza agricola di quel particolare terreno. A quel punto avviene la magia di tutti i REIT, il raggiungimento dell'obiettivo principale degli asset, in questo caso del terreno agricolo che è quello di generare un reddito costante attraverso l'affitto a operatori agricoli terzi o alla produzione agricola stessa. I provventi vengono poi quindi distribuiti agli investitori sotto forma di dividendi. Noi, vale, ma come potete ben capire una buona gestione aziendale non si conclude qui. I REIT vanno a monitorare costantemente le condizioni di mercato, le dinamiche agricole e le tendenze settoriali dei prodotti. Possono adattare le strategie di gestione in risposta a cambiamenti del mercato o alle condizioni ambientali, ad esempio cambiando le coltivazioni e la gestione del terreno di per sé o altri aspetti prettamente tecnici. In sintesi, il processo di acquisto dei terreni da parte dei diritti agricoli è una sequenza di attività mirate a identificare, valutare e acquisire i terreni agricoli con l'obiettivo di generare reddito sostenibile per l'azienda di per sé, ma anche e soprattutto per noi investitori. La due diligence accurata e la gestione operativa efficace sono elementi chiave in questo processo. Detta così è paradisiaca per chi ama investire in questo settore, ma come in tutte le cose non è tutto rose e fiori perché come in tutte le attività ci sono dei rischi, forse nel caso di un REIT sicuramente più mitigati dalla diversificazione su diversi terreni in questo caso, ma che sono comunque sempre presenti. Per cui prima di darvi un paio di nomi che mi sembra utile e dovrò suscitare, parliamo di tanti lati negativi. Questo perché l'investimento nel REIT agricoli può comportare diversi rischi e la comprensione di questi aspetti è essenziale per un qualsiasi tipologia di investitore. Questi sono alcuni, non tutti, rischi associati, detto che poi in realtà sono nella maggior parte dei casi condivisi con un investimento di un singolo terreno agricolo. Parliamo ad esempio di cambiamenti climatici o eventi meteorologici estremi o condizioni climatiche avverse che possono influenzare negativamente la produttività agricola, riducendo gli ingredienti e il valore dei terreni agricoli per cui la capacità dei locatari di rispettare i canoni di affitti dovuti al REIT. A questo si aggiunge anche un rischio di credito del conduttore se i terreni agricoli vengono appunto affittati a terzi operatori ed esiste per cui il rischio di credito dei locatari del terreno. Operatori con difficoltà finanziarie possono ritardare i pagamenti degli affitti o non riuscire a soddisfare gli obblighi contrattuali e lo abbiamo visto di recenti con Medical Property Trust, un REIT nel settore sanitario. Possiamo anche aggiungere le fluttazioni dei prezzi delle materie prime come cereali o colture specifiche che possono impattare i redditi derivanti dall'agricoltura e influenzare, a quel punto di nuovo, il valore del terreno agricolo che si collega alle culture e alla domanda di prodotti agricoli che possono essere influenzati dai fattori di mercato, non solo dalla fluttazione dei prezzi ma anche, ad esempio, ai possibili cambiamenti delle abitudini alimentari delle persone e ne stiamo vedendo tantissime in questo periodo, ma anche crisi economiche o situazioni geopolitiche di un certo livello, guardate ad esempio quello che è successo con il grano ucraino. Certo che queste condizioni al momento negli Stati Uniti mi pare sono estremamente improbabili, ma anche una pandemia era improbabile a mio parere, eppure c'è stata. Ci potrebbero essere poi impatti relativi a determinate variazioni nelle normative agricole e ambientali che possono influenzare la gestione delle coltivazioni e magari le pratiche agricole potrebbero richiedere investimenti aggiuntivi per arrivare a una conformità normativa oppure in una errata valutazione del terreno in fase di acquisto o magari proprio al cambiamento del mercato agricolo stesso, che possono portare a una svalutazione dei terreni e una diminuzione del capitale immobiliare in mano al REIT stesso. È importante sottolineare che ogni investimento comporta rischi e gli investitori, tutti, dovrebbero valutare attentamente questi fattori prima di prendere decisioni di investimento in un terreno agricolo singolo o un investimento nei REIT agricoli. Adesso andiamo a vedere due REIT che vale la pena menzionare e poi torniamo per i saluti. Andiamo a vedere prima di tutto Farmland Partners, che è il più grande in termini di acri di terreno occupati negli Stati Uniti d'America. È un settore, ovviamente quello del farm, dell'agricoltura, che è sempre in enorme crescita anche perché, come si può vedere, la popolazione mondiale è in enorme crescita, per cui la necessità di cibo coltivato tende a crescere nel tempo. 178.000 sono approssimativamente gli acri che vengono direttamente gestiti da parte di Farmland Partners, per cui quelli che non sono affittati a terzi. 20 sono gli stati americani all'interno del portafoglio. Più o meno sono 26 i campi che sono stati gestiti e creati direttamente da loro. Sono più di 300 le fattorie che sono possedute. Il 70% del valore del portafoglio è investito in coltivazioni di tipo tradizionale, mentre il 30% è quello in specialty crops. Come dicevamo prima, è il primo REIT Farm negli Stati Uniti per la quantità di acri occupati e sono tutti quanti affittati. 0% a vacancy rate. Vuol dire che tutti quanti i campi sono affittati o sono produttivi. In totale l'azienda nel 2022 ha acquisito, acquistato ulteriori 54.4 milioni di dollari di terreni. Andiamo a vedere quello che è la loro presentazione, la Investor Relations Presentation. Andiamo a vedere che sono più o meno 8.3 miliardi di piedi quadrati occupati dagli loro campi, che è un numero enorme, che sono sia posseduti, owned o managed, per cui sono stati dati in gestione a terzi. 159.000 sono gli acri posseduti, per cui quelli che sono nelle mani direttamente dell'azienda. 31.000 sono quelli invece dati in gestione a terzi. In totale il numero degli affittuali sono 100, per cui c'è una buona diversificazione sulle 300 fattorie, 100 sono gli affittuali diversi, e ci sono 26 tipologie di collettivazioni, crop types. Approssimativamente il valore dei campi è al momento 1.1 miliardi di dollari e l'equity market cap al momento è 600 milioni di dollari. Come dicevamo prima, 300 sono le proprietà acquisite dalla loro IPO del 2014. Andiamo a vedere quello che è stato il movimento degli ultimi 5 anni dell'azienda, che ha restituito negli ultimi 5 anni un 89.93% più un 2% circa di dividendo. Un dividendo è un rendimento non eccezionale comparato ovviamente alle big tech, ma se si guarda nell'ottica futura in cui i campi coltivati saranno sempre di più importanti, e infatti anche il nostro caro amico Bill Gates, che aveva Microsoft, per cui un'azienda di tipo tecnologico, ha investito molto acquisendo direttamente dei campi coltivati. Questo significa che anche nella mente dei grandi investitori c'è l'idea che nel futuro andare a coltivare terreni, andare a possedere dei terreni coltivati, può essere determinante per la struttura della popolazione mondiale e quindi per il guadagno futuro. Il secondo lit che andiamo a guardare è Glenstone Land, lit che ho posseduto nel mio portafoglio in passato, che poi ho venduto perché ha avuto un picco che poi andiamo a guardare su Sikhin Alpha, parecchio importante, che mi ha fatto guadagnare quasi il 100% in poco meno di sei mesi, per cui avendo capito che l'azienda era in un hype pauroso, subito dopo l'attacco appunto da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina c'era stata un po' questa paura sulle materie prime, ho venduto facendo quasi un 100% di profitto, alla fine credo che fosse il 95% e il titolo ha continuato a scendere e adesso si è riavvicinato a dei numeri diciamo umani, reali. Al momento l'azienda possiede 169 fattorie, che sono di meno di quello di Farmland Partners, 116.000 hack totali in 15 stati diversi. Questo appunto come possiamo vedere è un'azienda più piccola rispetto a Farmland Partners, ma bisogna considerare che Glenstone è un concluminato molto ampio di un 4-5 aziende quotate in borsa, fra cui anche BDC e altre tipologie di aziende. Per quanto riguarda l'occupancy rate vediamo anche qui che è il 99,9% per cui il vacancy rate, come anche per Farmland Partners, è praticamente zero e sono delle fattorie che vengono affittate a 92 differenti tipologie di affittuali e sono 60 le tipologie di coltivazioni che vengono fatte, come possiamo vedere qui 60 different types of crops. Se andiamo a vedere quello che è appunto anche qui lo split di quelle che sono le fattorie possedute, abbiamo 169 fattorie, 115.006 quasi acri di terreno posseduti e come possiamo vedere distribuiti un po' quasi in tutti gli Stati Uniti d'America, in tutti quegli Stati che sono utili per le coltivazioni, gli Stati Caldi abbiamo qui da un lato e dall'altro. Anche qui abbiamo un valore di proprietà molto importante, 1 miliardo e 6 al giorno d'oggi, che sono passati ad essere dai 75 milioni che era stata la loro IPO che è avvenuta nel 2013, un anno prima di Farmland Partners. In termini di rendimenti, come abbiamo visto in questo grafico, sono stati molto più bassi rispetto a Farmland Partners, negli ultimi 5 anni solo il 18%, ma come dicevo prima c'è stato questo picco enorme che è arrivato a portare l'azienda a quasi 42 dollari per azione, io la comprai qui intorno a 23-24 dollari, per cui capite che c'è stato un guadagno piuttosto importante, però grazie a questo calo l'azienda va a fondire un 3.92% di dividendo l'ordo, che male non fa. Ovviamente non sono consigli a investire in queste due aziende, però se vi interessa questo settore e vi piace anche andare a esplorare quelle che possono essere alternative rispetto ai metodi che vi ha descritto Francesco nel suo video, che vi ricordo è l'ispirazione per questo altro, ovviamente queste possono essere altre due alternative. ritorniamo a me. Bene, cosa ne pensate voi e come investite? Investite in rite agricoli o ci avete pensato? Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscriviti e sostienimi con un pollice in su o meglio ancora iscrivendoti su Patreon a costo di una collace alla mese. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!